Ma non voi avete giocato Scusate che succede? Marco, miserendino, che succede? Voglio la coppa, è mia la coppa Siete arrivati i terzi, non giocando Ma come fate? Ma come fate? Magia Perché ho la coppa io Due triangolari, niente coppa Terzo posto, niente coppa, questa è mia Capitano, lo accontentiamo No, ci siamo presi Anche lui E' stata la pia ma nel Mallorca No, io ho io questa Ce la buttiamo Allora, chi se la piglia la coppa? Marco, che cosa? Mi vengono tutti così Ma lì ci vengono Chi se la prende la coppa? Non mi capi il cazzo tu, Marco Io ho perso Marco Ho vinto io Se l'è presa lui, se l'è presa lui la coppa Ho la penne il capitano Comunque, soddisfatto di questo tre stelle Fin da conti Terzo posto Abbiamo dato anche un po' la squadra che Elementalmente sarà dell'anno prossimo Sarà tua coppa A parte l'attacco Marco e Roberto Marco lo togliamo e Roberto lo togliamo Però avete iniziato il torneo in 8-7 Vi siete ridotti in 3 In 3? Ce l'ha arrivato in 4 Abbiamo vinto Una guerra avete fatto Sì ma prima il torneo eravamo in 9 E tutti dicevano no, 9 sono troppi Sono troppi, sono troppi Vi siete ridotti in 3 Tra l'altro di Cristina è fuggito Ti revi, non hai giocato, ti revi La bua Non conti niente la bua Fate fare la foto Fatta Quindi mi raccomando la prossima volta vedete di resistere almeno tutte le persone Che cazzo c'ho preso la figlia La bua si è fatto male Si è la metà Era un po' scontato che la bua si facesse male Mi sono fatto la bua Cambialo, cambialo E poi il cognome è portato Allora ci rivedremo quando? Al terzo sotto le stelle? Io... Entro 6 giorni passa la slocatura? Eeeh non sono, dottor house però spero di sì Dottor house Sì sì a voi, a voi Quella sì Entro un'ora passa sta puzza che banda Marco Se ti sposti Parro guai da mi sei profondo Vabbè ragazzi dai andate a... Andate a... A prendermi la coppa Andate a dormire tra l'altro Vabbè c'è il cestino Vabbè però te la regalo a te Una buonanotte ragazzi ciao complimenti Buongiorno Buonanotte a te Ciao 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 ciao